Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Toa Animation, Fanimation, Fuji TV e Akira Toriyama. Supportate i prodotti originali. Ma cosa diavolo sta succedendo? Risponderò alla tua domanda con un'altra domanda. Cioè? Quale domanda? Vuoi vedere come bevo questo tizio? Oh, oddio. Sto per vomitare. Non puoi vomitare. Sei dentro la mia... Oh, santo cielo. È dappertutto. Allora, Junior. Che cosa ti porta nel mio quartiere? Avevo percepito un'anomalia. Per essere anomalo sono anomalo. Ti ricordi quando ho bevuto quel tizio? Cazzo, sei stato strano. Immagino sia stato tu a sterminare l'intera popolazione. Oh, no, no, no. È stato un altro. Di nome fa grazie e di cognome al cazzo. Perché? Dimmi perché. Beh, per tre motivi. Primo, dormivo da qualcosa come quattro anni e quindi capirai che ho una certa fame. Secondo, nulla mi soddisfa di più di vedere una persona che si dissolve. E terzo, e qui mi serve che tu stia molto attento. Oh, perché sembra che mio padre stia combattendo contro Junior? E che Vegeta stia combattendo contro Junior? E che anche Junior stia combattendo contro Junior? Che strano. Sembra che ci sia anch'io con loro. Sembra che tutti quelli che conosciamo stiano combattendo contro Junior. Tranne Yanko. Beh, ma non mi vedi? Io sono qui. Eh già, sarà per questo. Ah, e terzo, è così che potenzio il magnifico tempio del mio corpo. Tu, tu sei un mostro. Ah, quindi sarai un mostro. Oggi non me l'aveva ancora urlato nessuno. Proprio da te non me l'aspetto. Ah, questo sì che è imbarazzante. Mi è uscito dal buco sbagliato. Per quanto mi disgusti ammetterlo, io e te abbiamo una cosa in comune. Più di quel che credi. Ma continua. Ci potenziamo notevolmente quando assorbiamo qualcun altro. Inquietante! Non posso crederci, hai sfasciato il furgone. Sinceramente non so cosa ti aspettassi. Non avevo neanche preso la patente quando il dottor Gelo ci ha trasformato in cyborg. Tutte scuse. Ehi, C16? Qualche reazione là dietro? Io non credo che un'automobile sia eccitabile sessualmente. Senti, secondo te quell'esplosione cos'era? Ah, chi se ne frega. Magari era solo Vegeta con una delle sue crisi isteriche, oppure... Aspetta, intendevi una reazione del motore? Perché ora funziona. Ah, ma si è fuso col Supremo. Ma allora è una moda. Gli hai dato un calcio rotante. Visto che roba, ho sempre voluto farlo. Ti prego, non farlo più. Corpo mio, regole mie. Diamine! È più veloce di me. Questa potrebbe essere una rottura, ma... Ah, il mio sederculo! La vuoi vedere una ficata? Ma che cosa fa? Quella sembra la tua tecnica. No, impossibile. Fa la cosa con le dita. La fa anche Goku, per il delettor... Ma che cosa fa? Oh merda! Ecco come si pronuncia. Sto per becarmi un altro calcio, vero? Senti, devo assolutamente chiederti un favore. Piantala di prendermi a caccia. Prima dimmi come fai a conoscere la mia tecnica. E magari ci faccio un pensierino. Beh, che vuoi che ti dica? L'imitazione è la più grande forma di adulazione. A proposito... No, non può essere. L'unico che conosce quella tecnica è Goku. È Gohan. E il genio delle tartarughe. E Grilly. E Yamco. E io quella volta che ho provato a vedere se mi riusciva... Accidenti! Un'altra macchina del tempo. Un mostro a piede libero. E ora è scomparsa un'intera città. E ancora non so dove sono gli androidi. Hai ragione, sei proprio un casino che conto a fiochi. Eh? Ma quando sei... Non ti ho nemmeno percepito. L'ho affettuosamente battezzata modalità furtiva. Con questo abbiamo a che fare. Non ne ho la minima idea. A quanto pare è un gigantesco mostro cicala. Spero che Junior riesca a tenergli testa fino al... Ah! Quello era Junior o... Junior Junior? Quella creatura è piena di sorprese. Sorprese! Ehi, è dietro di te. Ma salve, vicino. Deve essere la tua prima volta. Perché sei tutto tesa. Ma purtroppo per te... Sarà anche l'ultima. Ehi, ti sta bevendo il braccio. Lo so! Ma allora, fai qualcosa! Ti provo! Ah, la mia bocca a becco! Ah, cielo! Cominci pure ad assomigliare al Supremo. Ma che stronzo! Non vuoi che ti assorba anche l'altro braccio. Lo dico per te. Così salta proprio all'occhio. Ascolta, è evidente che ho perso lo scontro. Senza un braccio, sono spacciato. Ma scusa, non puoi rigenerarlo. Sta zitto, Neil. Ha un piano. Ah, sottomissione. La scelta preferita dopo la vana resistenza. Però, prima di eliminarmi... Scusa. Perché non mi dici tutto quello che c'è da sapere su di te? Ehm, ecco... Ma forse non hai nulla di importante da dirmi. No, no, è solo che... Sei il primo a chiedermi chi o cosa. Di norma chiedono solo... Perché? Va bene, cominciamo. Sono sicuro che tu ormai conosca benissimo mio padre, il dottor Gelo. Oh, maledizione. Ma aspetta, c'è dell'altro. Sono puramente biomeccanico, a differenza dei miei fratelli, i cyborg 17 e i 18. Noi li chiamiamo androidi. Buon per voi, ma vi sbagliate. Come stavo dicendo, nostro padre mi ha creato col solo scopo di diventare... Perfetto. Mi ha infuso il corredo genetico dei guerrieri più forti della galassia. Raccolto nel corso di vari decenni. Per questo conosci le nostre tecniche. Ah, ma io conosco molto di più. So che in questa linea temporale si cela il segreto della mia vera forma perfetta. Un segreto che pensavo fosse smarrito per sempre. Questa linea temporale? Quindi vieni dal futuro? Ma come hai fatto? Un modo l'ho trovato. Ti basti sapere che adesso mi trovo qua e non mi fermerò davanti a nulla pur di ottenere la perfezione. Molto bene. Ora conosco la tua storia. Non c'è di che. Però non conosco il tuo nome. In verità non ho ancora un nome. Ma tutto sommato... Credo che sceglierò... Cell. Mi aspettavo di meglio. Detto da uno il cui nome significa piccolo. Ma sai, non ha importanza. Adesso ti bevo. Fermo. Prima di bermi. Non la vuoi vedere anche tu una ficata? Ella sa che vuoi fregarmi. Ma vediamo. Oh, ma è una straficata. Ma anche una bella rottura. Un'altra bella rottura. E quello che cavolo è? E perché mi dà questa inquietantissima sensazione di déjà vu? Spiacente, Bilby. Ma la storia non la racconto più. Però permettetemi di illuminarvi. Colpo del sole! Ma è la mossa di Tensin! Sì, cazzo, lo so! Ma che cavolo di aura sto percependo? Quella del nameciano! La mia! Io sono più forte di me! Cazzo se mi ammazzo! Cazzo se mi amore? Cazzo se mi amore? Grazie a tutti.